Zeno Colò è stato uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi, un discesista formidabile. Nel dopoguerra a Cervinia stabilì il record del chilometro lanciato a 160 km all'ora, un record che sarebbe rimasto imbattuto per 17 anni. Zeno Colò fu anche campione olimpico, vinse tre coppe del mondo e si deve al suo stile la tecnica della cosiddetta posizione a uovo, poi utilizzata da tutti i discesisti. Purtroppo la conclusione della sua carriera non fu delle più felici, perché dopo i successi agonistici Zeno Colò diede il nome a una linea di abbigliamento e in quanto professionista, queste erano le regole del tempo, fu escluso dall'attività agonistica. Ci furono molte proteste, ci furono anche delle vicende processuali, ma la decisione non venne modificata e Zeno Colò venne riabilitato solo qualche anno più tardi.